Chi non ci crede è una bici? Giorno auto da corsa, giorno carroattrezzi, buongiorno Stanley! Allora, Cricchetto, come si sono conosciuti Lizzie e Stanley? Oh, è una delle mie vecchie storie di storia preferite. Tutto iniziò la settimana scorsa. La settimana scorsa? Silenzio, senti la storia della mia storia. In pratica stavo mettendo su un orologio a bordo strada, quando all'improvviso... Oh, oh! Oh, che dolore! Come mi frudi il naso! Eh? Ah, sì! Fischia! Oh, queste sono le leggendarie caverne dei fari di coda. Fischia, quante stalat luci! Non vedo l'ora di raccontarla a tutti in città. Oh, ma è strano, la città è sparita. Ehi, e quello chi è? Ehi, ciao, amico! Stanley? Proprio così! Stanley, il venditore di tappi per radiatori. Ho tappi piccoli, tappi grandi, di ogni colore, ogni forma, ogni marca, ogni modello. Tappi per signori e tappi per signore. Serve un tappo? No, sono a posto. Se non ti serve un tappo, devo chiudere con questa vendita e mettermi in marcia. È pieno di clienti che non aspettano altro che un tappo Stanley, da qui alla Caliparnia! Un momento, se Stanley non si ferma qui nel passato, allora... Nel futuro non ci sarà la città, devo salvare Radiator Springs! Un momento, non puoi aver viaggiato indietro nel tempo? Ciao, cricchetto! Ciao, cricchetto! McQueen, dammi una mano! Ci vediamo? Ci vediamo! Oh no, dobbiamo fermare Stanley! Idea, sta fermo! Ehi, Stanley! Qui c'è un'auto che ha un gran bisogno di un tappo da radiatore! Beh, accipicchia, un cliente! Vengo! Buongiorno, amico! Sai, credo di avere un tappo giusto della tua misura. Calza a pennello! Sì, signore! È proprio il suo! Pensaci, Stanley! Potresti vendere a tutti i viaggiatori che attraversano il deserto tanti tappi per radiatori! Sì, mi piace questa tua idea! C'è un posto qui dove posso bagnarmi il becco? Oh oh, è come! Seguimi, amico! Fate il pieno di bella acqua fresca e poi vi fornisco io dei bei tappi da radiatore! Che ne dici? Qualcosa di gagliardo? Va bene, ne prendiamo due! Sai, Stanley! Potresti costruire una cittadina accanto a questa fonte per radiatori? Fonte per radiatori? Radiator Springs! Ding dong! Ecco, sì, potrei chiamarla così, suona bene, potrei portare... Così ci metterà un bel po'. Fischia! Acceleriamo le cose! E' sì! Wow, è un posto incredibile! Ehi, amici, dove eravate? Venite, vi faccio fare un giro. Benvenuti all'Oasi di Stanley! Qui potete fare il pieno d'olio nel famoso garage bottiglieria. Là c'è il servizio assistenza e quello è l'emporio dei tappi per radiatori. Forte! E quello è il refrigerante naturale al 100%. Un sorso e cala l'arsura da temperatura. Oh, che forza! Beh, direi che abbiamo finito. Eh? Ragazzi, che schianto di modello T! Qualcuno mi aiuti! Quell'auto è neguai! Ma che? Lizzie! Tranquilla, ci penso io! Grazie, gentile signore! Ehi, guarda chi c'è! Ma che? Lizzie! Questo l'ho detto anch'io! Oh no! Se Lizzie si innamora di Saetam e qui non si innamorerà di Stanley e lui non resterà! E addio Radiator Springs! Mi scusi? Eh... Sì? Le dispiacerebbe farsi da parte? Eh? Oh! Mamma mia! Ma tu sei la fine del mondo! Scommetto che lo dici a tutte le ragazze! Oh no, niente affatto! Ma è fantastico! Stanley, Lizzie, Lizzie, Stanley! Il piacere è tutto mio! Posso offrirti un sorso refrigerante di acqua fresca? Oh, sei un vero gentiluomo! Oh, che bello! E ora troviamo un bel tappo da radiatore nuovo fiammante! Per me? Ci sai fare con le ragazze? Ah, ma che dici? Oh, è perfetto! Ti piace per davvero? Oh, sì! Mi piace per davvero! E il resto è storia! Assicuriamoci che la storia faccia il suo corso! Ehi! Dove sono finiti tutti? Ehi, che succede al tribunale? Eccoli, arrivano! Dite cheese? Che ti prende, Cricchetto? Tengo sempre ai matrimoni! Vieni, zuccherino! Passiamo la luna di miele nell'autostello comoda caverna! Oh, Stanley! Possiamo andare! Eh, sì! Non è possibile viaggiare nel tempo, Cricchetto? Permesso, giovanotto! Mi blocchi la visuale! Potresti farti da parte? Oh, eh, certo! Mi manchi, Stanley! Stanley, tu ci sapevi fare con una ragazza! A proposito, non ti ho mai ringraziato per avermi presentato a... a Stanley! Ed ecco, fatta la storia! Ed ecco, fatta la storia! Tutto, non ti ho mai ringraziato! Tutto. Tutto vuoi. ают! Grazie a tutti.